buongiorno ragazzi allora pronti per la domotica io no sono confusissimo prima di iniziare la domotica diamo un'occhiata all'armadio per l'ultima volta ho stampato le ultime tre bobine non le ho ancora inserite però vi faccio vedere una cosa al di là di qua che c'è stato un riavvio e di qua che l'ho aperto ha fatto il ciclo praticamente tutta notte spento e tutta notte a 12 per cento di umidità poi qua l'ho aperto per prendere le bobine nuove da inserire è schizzato al 20 per cento e senza accendersi in completa autonomia è tornato a 13 8 per cui l'armadio funziona quindi l'armadio funziona è a posto e merita la sua scheda ma vedremo poi stamattina la prima cosa che ho fatto è con le mani sui coglioni aggiornare home assistant completamente perché siccome noi andremo a gestire la domotica con un sacco di automazioni perché ripeto la domotica ovviamente io mi fa interagire veramente poco è una domotica semi automatica ho visto praticamente che avevano aggiunto nelle automazioni la possibilità di raggrupparle per aree che me lo lasciava più interessante ma soprattutto la possibilità di aggiungere categorie e etichette che per la mole di roba che aggiungeremo noi saranno essenziali per tracciare ordine ora tralasciamo che non ritocco queste che le vediamo tutte assieme prima di iniziare tutta la mani su domotica mi schiaccio un bel caffè andiamo di là e con un caffè iniziamo a discutere di tutto oggi saranno storie parlate ragazzi non storie fattive cerchiamo un po di fare anche ordine cerchiamo più che altro di fare ordine mentale su tutto questo lavoro qua iniziale sono ben accetti tutti i suggerimenti su cosa automotizzare allora so che sarebbe più interessante fare una live dove discutere tutte assieme e magari la faremo per le varie fasi singole delle parti da domotizzare ma la live come vi ho detto molte volte a me risulta molto scomodo da organizzare e siccome la mia comodità è prioritaria alla vostra soddisfazione non facciamo la live prima ancora di iniziare l'elenco della domotica io direi che facciamo un po di pulizia nell'elenco che c'è qua sulla lavagna perché se no continua da mucchiar roba e non la stimiamo più per esempio saficanza 3d station direi che finite a posto bar conference arcade lo vediamo arcade ripetuto due volte fa niente lasciamo ripetuto due volte la domotica iniziamo oggi però abbiamo fatto la battuta digitale ieri altre cose niente c'era solo quello da togliere poca roba allora facciamo una premessa in questa fase in questa fase di brainstorming sulla domotica vale tutto cioè inseriamo dentro qualsiasi cosa ci venga in mente poi a non farla a non riuscire a farla a decidere di non farla facciamo sempre in tempo poi in questa fase mettiamo tutto lo scibile possibile per comodità siccome il laboratorio comprende già una parte domotizzata pochissima roba che adesso vi dico cos'è in realtà l'unica parte veramente veramente domotizzata è la sala della ficcanza direi semplicemente che andiamo in ordine totalmente casuale allora prendiamo un po di pennarelli e un bel tocco di carta così facciamo un elenco cartaceo delle cose che si ragiona meglio anche perché bellissima idea che la domotica la si fa su carta poi questo qua da qualche parte lo appendiamo cosa c'è di domotizzato attualmente in laboratorio praticamente tutto ciò che è la sala della ficcanza ok il che viaggia a sé perché viaggia completamente a sé rispetto al resto del laboratorio perché abbiamo l'armadio col sui grostato che fa il suo tutte tutte le sue misurazioni qui ho stampato tutte le cose sto aspettando che i sali si si raffreddino un attimo mica che cuocio i supportini quindi quello si gestisce completamente la sole quelle sono domotizzate come accensione spegnimento e cicli dei led più varie notifiche qui c'è la sua scheda questa parte qua diciamo la parte 3d è totalmente domotizzata quindi questa qua direi che a posto partiamo fa è un'altra cosa che c'è domotizzata in realtà che ha bisogno un upgrade lo vediamo dopo è il compressore cioè il compressore grande il grande compressore ha semplicemente banalmente una presa di corrente di quelle domotiche che lo stacca e attacca la sera la mattina alle 10 di sera lo stacca alle 8 della mattina lo attacca così che inizialmente solo l'ho fatto solo per evitare di sentire il rumore di quando si ricarica lato casa ma in realtà è l'inizio della domotizzazione di quella parte lì quindi da dove partiamo dalle campane sarebbe bello domotizzare queste per capire i discorsi da qui in avanti devo fare una premessa che non è una puntualizzazione una spiegazione più che altro che non è un valore universale ma è come io differenzio le cose io faccio una differenza tra tre tipi di domotica la domotica comandata quindi le stampanti le stampanti sono io che le accendo sono io che schiaccio un trigger praticamente il trigger digitale a telecomando non è realmente domotica è solamente triggerato perché di fatto che io prema l'interruttore dietro la stampante o vado a premere un pulsante software è la stessa cosa quindi quella è la prima idea di domotica quella più semplice che non è la sbagliata e quella che a volte è necessaria per comodità di installazione aggiungo un pulsante remoto senza file zigbee in un punto dove non posso tirare un cavo quello è un tipo di domotica se vogliamo non è il reale concetto di domotica e questa è la prima la seconda differenza invece è una differenza che faccio io per mia comodità di organizzazione non è una reale differenza domotica non è una cosa che trovate scritta da qualche parte è un mio modo di ragionare faccio la differenza tra automazioni e protocolli che se andate a leggere la definizione sono la stessa cosa più o meno però per ordine mentale io sono più comodo a fare così vi faccio gli esempi per farvi capire le luci del giardino le luci del giardino si accendono col tramonto e si spengono con l'alba alba e tramonto variano in base a stagione tempo e tutto non c'è un sensore di luminosità ho preferito gestirle così per comodità per non spesa per praticità che tanto va bene uguale questa è un'automazione perché il trigger scatenante non è un trigger che dipende dalla mia volontà non è la condizione di un altro elemento anche se in realtà il sole è un elemento e in omo assistant lo vediamo proprio come entità come se fosse un nostro sensore di casa però di fatto è un elemento su cui io non ho praticamente nessun appiglio quindi se io dovessi automatizzare le luci del laboratorio per accendersi anche in determinate condizioni quando va giù il tramonto quando va giù il sole questa sarebbe un'automazione il protocollo invece io lo intendo come qualcosa che comprende più elementi più condizioni più situazioni per esempio la gestione dei led delle stampanti che cambiano in funzione dello stato delle stampanti e nella condizione se la stampante accesa oppure l'interruttore delle stampanti che è disponibile solo se la stampante non sta stampando così che io non possa spegnere la stampante in funzione non possa spegnere la stampante se sta stampando per errore questo io lo definisco protocollo quindi avremo poche automazioni e tanti tanti protocolli un'ultima cosa prima di iniziare con l'elenco è facile che oggi si superino le 100 storie quindi le origini verranno cancellate le le iniziali verranno cancellate da qui in avanti siete liberi di sparare tutti i suggerimenti che volete però assicuratevi di aver visto l'ultima storia perché se mi suggerite qualcosa che mi sia stato suggerito o già scartato non vi rispondo neanche in privato perché sennò veramente diventa un lavoro enorme vi ricordo che se saltate le storie siete interessati all'argomento anche se non è proprio comodo comodo domani al più tardi lunedì trovate il video sul canale youtube e siccome mi avete rotto le balle che non ricordo mai qual è il canale youtube adesso da qualche parte lo cerco e vi metto qua il link al canale incominciamo e incominciamo dalla roba più semplice e la cosa più stupida la cosa che tutti automatizzano e non domotizzano sono le luci le luci sono una cagata fotonica perché tutti dal divano vogliono spegnere la luce del 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 soggiorno ecco questo è un esempio perfetto se siete sul divano e dite alexa spegni la luce vedrò di ripeterlo almeno volte possibile quello non è domotica come vi ho già detto quello è un interruttore vocale se te si siete sul divano e accendete la televisione in automatico si spengono le luci quella è un'automazione se siete sul divano si accendono le luci e il vostro server identifica che tipo di film state guardando se è un horror o altro oppure cambia la luce in funzione del tipo di film oppure in funzione della resa cromatica della scena del film in quel momento quello è un protocollo così l'esempio è proprio perfetto nello stesso modo le luci ho varie luci e vari ambienti e ognuno deve essere trattato in modo diverso trattato in modo diverso perché ha esigenze diverse vi faccio vedere come ho pensato ad organizzare le luci così vi spiego anche qual è lo schema che sto facendo per avere un ordine mentale e capire anche come puoi recuperare tutto l'altro necessario premessa delle premesse in tutto questo sono escluso gli assistenti vocali quindi siccome io ho diviso le cose così in nero come in blu il cosa in rosso il con cosa cioè che hardware ci vuole in quello è sempre escluso l'attivatore vocale perché l'attivatore vocale è un ragionamento tutto a parte vedremo quando lo inserrò così in mente ma è una cosa che verrà fatta tutta a posteriori dopo e siccome sarà più o meno presente in ogni cosa non sto a segnarlo la prima luce è quella main la principale cioè queste qua le luci della zona grande chiamiamola proprio della zona principale la S sta per singole voglio attivazioni singole per ogni striscia già ora sono distribuite in questo modo perché l'avevo già fatte così quindi io ho un pannello con degli interruttori che attivano le singole zone di questa parte qua principale e quindi l'attivazione questa sarà manuale ora è manuale ovviamente c'è i bottoni dopo sarà manuale domotica attraverso che cosa semplicemente attraverso un remote vabbè più gli shelly ovviamente ma gli shelly non li mettono anzi mettiamoli così almeno dopo ho l'elenco shelly 1 2 3 4 5 5 shelly shelly per 5 e questi qua li vedremo perché ha un'attivazione manuale attraverso un telecomando perché questo è un per telecomando intendo questo poi i singoli hardware ragazzi li vedremo dopo perché questa è un'attivazione manuale e non magari all'imbrunire con un sensore di presenza con un sensore di presenza vi ricordo che in tutto è sempre compreso l'assistente vocale quindi si potranno accendere anche vocalmente manuale per i semplici motivi io ho solo un'esigenza di accendere queste luci in maniera comoda quando vengo di qua la sera o di notte ed è completamente buio e io mi ritrovo a entrare da qua dover andare di qua e premere uno di questi interruttori la metà delle volte perdo una clavicola sulla steam machine l'altra metà delle volte in cespico in qualcosa che è qua per terra quindi questo è un classico esempio dove la domotica si manifesta nella sua forma quella base quella semplice cioè dove non posso arrivare a tirare un cavo e mettere un bottone uso la domotica quindi io semplicemente mi basta piazzare uno di quei telecomandi lì nell'intercapedine tra i due o all'interno di questa porta o dove mi pare e permettere di accendere le luci così vengo di qua è buio schiaccio se accendono le luci poi tutti i vari giochini una più luce due luci tre luci una sequenza quello lo si vede al momento non voglio scrivere tutto se no non capisco più niente e questa è la prima cosa delle luci seconde luci sono quelle della sala della ficcanza la sala della ficcanza in realtà è gestita abbastanza in maniera semplice entri e c'è un bottone però si può fare meglio perché il vero problema delle luci ha un'utilità usare una domotica di tipo di tipo automazione per fare una cosa sola non dimenticarsi le luci accese o non premere l'interruttore siccome la sala della ficcanza non ha vincoli di casistica cioè la mia tenda è sempre abbassata e non voglio luce naturale possiamo gestire la domotica con un sensore di presenza quindi la sala ficcanza avrà la luce in presenza attraverso un sensore fp2 stupidissimo perché sensore fp2 perché nella sala ficcanza se io entro è perché sto dentro e quindi quando esco deve rilevare che non c'è ne più e non basta un sensore di movimento in quel caso perché io potrei essere seduto alla schivania a pensare a fissare il vuoto e quindi non mi sto muovendo sembra tipo una salamandra e non muovendomi non farei scatenare il sensore mentre con un sensore fp2 di presenza fin quando qualcuno io siamo in un riunione c'è qualcosa nella sala sta accesa la luce appena esco un ragionevole lasso di tempo da qui l'automazione e non il protocollo scatta e la spegni il bagno il bagno invece è una va gestito leggermente diverso anche lì è una di quei posti dove dimentico maggiormente la luce accese in laboratorio capita spessissimo che io venga di qua la mattina mi ritrovi la luce del bagno accesa perché perché da quella porta non la vedo da quell'altra porta non la vedo e quindi mi rimane accesa quindi il bagno lo gestiamo allo stesso modo ma con un sensore di movimento perché in bagno non è che ci permani più di tanto almeno non in questo quindi un sensore di movimento ci basta e ci avanza entro accendere la luce piscio faccio quello che devo fare quando esco la spegne la zona laser invece va trattata esattamente come va trattata la sala della ficcanza quindi con un sensore di presenza in maniera stupidissimo perché se sono lì al laser puoi dire che sto lavorando non è detto che io mi stia muovendo perché potrei essere semplicemente davanti al computer ma sicuramente mi sto sto lavorando con tutte queste luci accese quando qua c'è una persona questa luce deve stare accesa la cabina di verniciatura non sarà domotizzata per il semplice motivo che ha un utilizzo specifico e ben preciso che richiede una volontà se io entro per dipingere vuol dire che accendo la luce vuol dire che accendo l'aspirazione è totalmente necessario fare lo sforzo di attivare l'aspirazione solo nel caso ci sia il compressore acceso e una persona dentro perché sta verniciando non vuol dire niente non ha alcun senso la domotica deve avere un senso di comodità la sala la cabina di verniciatura è svincolata da tutto questo ragionamento altre luci qua non ce ne sono l'ingresso escluso gestito manualmente se sono all'ingresso vuol dire che sto aprendo la porta qualcuno è entrato qualcuno accendo e spiego col bottone luci le abbiamo sistemate tutte queste attivazioni qua saranno anche nel pannello a muro ovviamente sarà possibile attivarla anche di lì non tanto per una questione di senso quanto per una questione di fatto 30 fai 31 nel senso una volta che hai fatto un panel wall con tutta la situazione quindi il panel wall sarà sia informativo che interattivo una volta che hai il panel wall che ti attiva che ti ti indica se la luce principale accesa e quali sono accese se la sala di affianza è accesa oppure no a che punto è il sensore tanto vale mettergli anche un bottoncino per accendere spegnere tanto è un attimo il panel wall che lo vediamo comunque dopo sarà diviso in schede ragionato in un certo modo avrà una main board e poi tutte le varie singole sezioni le luci fino adesso le luci vabbè ve l'ho detto erano la parte più stronza e la parte più facile ora entriamo nel vivo delle cose toste partendo partendo subito dalla più difficile di tutti che non è sì è la più difficile sotto a qualche punto di vista che è il big suca il big suca ha bisogno una quantità di automazioni e di protocolli che necessita costruire sensori costruire probabilmente anche hardware e cambiarlo sostanzialmente nel suo funzionamento il big suca l'unica cosa che non c'è da fare il big suca è l'attivazione automatica attraverso le macchine vi dico un attimo come è messo il big suca tutte le macchine viaggiano a 380 trifase su linea dedicata vuol dire che tutte le macchine tutti i cavi di alimentazione delle macchine convergono in questo punto hanno un loro quadro a parte e soprattutto hanno un master slave queste sono tutte le macchine che entrano nel master slave l'uscita va direttamente al quadro scusate l'ingresso arriva nel master slave dal quadro le macchine si infilano tutte nel master slave e poi l'uscita va direttamente al al big suca è già gestito in maniera analogica questa cosa non ha nessun senso trasformarla in domotica perché non ha nessun senso che l'attivazione del big suca quando la macchina viene attivata passi a dare su una domotica e qua funziona è gestito e va benissimo così ci sono però una serie di cose che il big suca ha bisogno che vanno fatte il big suca ha una serie di sensori analogici che noi dobbiamo riportare a digitali e una serie di sensori invece che vanno aggiunti perché non presenti prima cosa tra tutte abbiamo detto che si accende e si accende in automatico non c'è problema il big suca ha un misuratore di pressione differenziale che serve a far capire analogico che serve a far capire quando il filtro è pieno e qui sopra a questa altezza qua in questa l'avete visto l'ho smontato mille volte anzi adesso andrà anche tutto ripulito quando il filtro è pieno e quindi la portata del big suca diminuisce lui manda un messaggio non stoppa la macchina accende una spia noi abbiamo già fatto una modifica con questo cavo che si infila lì che va sopra e abbiamo aggiunto a tutto un segnalatore luminoso sopra la quello la che ci dà due indicazioni quando il big suca è acceso dato che io non lo sento perché è nell'altra stanza e soprattutto quando il filtro è pieno mettendo una luce rossa e un segnalatore luminoso questa è la una è la prima cosa del big suca che va domotizzata quindi il big suca ha bisogno che quando il filtro è pieno mandi una notifica che poi la mandi sul cellulare la mandi sul panel o faccia un qualsiasi altro tipo di segnalazione deve mandare una notifica digitale di questa cosa qua deve mandare una notifica domotica quindi prima modifica del big suca lo stato del filtro però non deve solo avvisarmi quando il filtro è pieno perché io non voglio che mi avvisi quando ormai è tardi che il filtro è pieno e lui ha perso portanza io voglio che mi indica anche lo stato del filtro e quindi il misuratore di pressione differenziale deve essere domotizzato non per essere comandato perché non ha niente che va comandato ma va domotizzato dal punto di vista informativo mi deve dare l'informazione a che stato è la pressione all'interno del big suca in modo tale che io abbia un range range che dovremmo costruire costruire in maniera software ovviamente dato dato al sensore per farmi capire a che punto siamo cioè ce la fai o non ce la fai e adesso vi spiegherò perché ci serve sapere questa informazione questo è il primo tipico sensore che non ha la più pallida idea di come andare a costruire quindi big suca prima cosa stato del filtro con misuratore di pressione differenziale che ci restituisca l'informazione e anche il messaggio dell'allarme quando il filtro è pieno quindi la prima cosa del big suca è lo stato del filtro e io posso solo supporre come vada fatto quindi ho scritto dell'hardware ma l'ho scritto solo per presenza cioè un SP e il misuratore di pressione differenziale non c'è nessun tipo di trigger in questo caso non c'è nessun tipo di come perché è continuato è un'informazione che deve dare sempre questa però ho dovuto aggiungere un colore che è l'out cioè cosa restituisce come output semplicemente scriviamolo output restituisce sia il livello che l'allarme come gestire l'allarme poi lo vediamo tutte queste cose qua sono cose che andranno create delle schede apposta su home assistant da riportare al panel come vedete è un lavoro molto grosso che va necessita di essere rimesso giù e poi diviso pezzettino per pezzettino partendo magari dalle cose dalle cose più semplici però questo è quello che deve fare il big suca per quanto riguarda lo stato del filtro ma non è l'unica cosa che ha bisogno il big suca come ovvia il problema del filtro il big suca attualmente in maniera manuale semplicemente c'è una leva che mi avete visto ogni tanto venire di qua agitarla che fa questo lavoro qua si viene di qua si prende questa leva ogni tanto le si dà una scossa la leva a è collegata a due pettini che vanno a muovere che vanno a spazzolare il filtro e fa praticamente cadere dal filtro che ha fatto alle melle tutta la segatura d'avanzo direttamente dentro il sacco vuol dire doverlo fare a mano vuol dire doveva fare quando ce lo si ricorda o se no quando suona che il filtro è pieno e solitamente troppo tardi perché vuol dire che il filtro è già imbragato se quella parte lì venisse domotizzata ok con un'automazione non con un protocollo insisto molto queste cose così ci capiamo ci evita di ripulire il filtro il più possibile perché non so se avete visto che menata è il filtro tra smontare tutto e aspirare ogni singola lamella quindi semplicemente l'agitatore deve avere un'automazione di tipo temporale perché non ha senso farlo sulla base di quando il filtro è pieno perché se io mi baso sul filtro a parte che l'informazione filtro la dà probabilmente riusciamo a ottenerla probabilmente solo a bixuca funzionante vuol dire che è già tardi cioè conviene agitarlo sempre conviene che sia un'automazione di tipo temporale come ne vedremo altre e agitarlo sempre dare n scosse che hardware ci vuole penso ci voglia un attuatore questo è un tipo di automazione che non restituisce praticamente nessuno stato al massimo possiamo fare un counting possiamo avere un conto di quante volte lo fa facciamo un esempio di questa roba qua tutte le notti alle 3 di notte l'automazione da 10 agitate al filtro così facendo si previene in maniera ragionevole l'intasamento del filtro prima che vada a soglia noi potremmo fare anche solo questo poi tenerci all'allarme però abbiamo detto che scriviamo tutto quello che è possibile immaginabile automatizzare poi al massimo qualcosa non lo facciamo quindi l'agitatore ha un'automazione di tipo temporale con un attuatore che porta avanti e indietro le lamelle in maniera analogica e ci restituisce volendo un counting di quante volte l'ha fatto per statistica il bello dell'automazione della domotica è che ci può restituire un sacco di statistica e di grafici che per i nerd patentati sono sempre tipo tipo oro fra l'altro ho aggiunto anche l'output alle luci non l'avevo scritto ma è un altro stupido che è semplicemente lo stato delle luci qua è la seconda domotizzazione del Big Suka l'integrazione a qualcosa che già c'è ma è gestita in maniera manuale e dipendente dalla mia memoria del cazzo terza automazione la forse la più difficile l'unico modo di sapere se il sacco è pieno è andare a guardarlo esiste una finestra nel vano sotto che però per come sono messo è girata dall'altra parte quindi io dovrei spostare questo qua che non l'avevo messo semplicemente perché all'ingresso era brutto vederlo però tanto si vede lo stesso quindi mi sa che prima cosa quello lì lo giriamo così la finestra la vediamo e siamo anche un po' più comodi a utilizzarlo lo stato del sacco è una cosa da automatizzare o meglio è una cosa da domotizzare perché non ha nessun tipo di azione è un'altra informazione che deve dare in continuo e mi deve dire lo stato del sacco non mi basta sapere quando il sacco è pieno non voglio ricevere una notifica solo quando il sacco è pieno ma voglio un'informazione di tipo continuato come farlo? e che cazzo ne so quindi anche questo è sacco come farlo non è la più qualità di idea probabilmente possiamo basarci o su un misuratore di distanza piazzato sopra il sacco che misura la segatura bisogna vedere quanto la polvere del segatore inficia questo quindi misuratori infrarossi oppure possiamo farlo sul peso possiamo mettere un sensore di peso sotto il sacco e andare a misurare quanto pesa il sacco magari poi non è neanche possibile non lo so troveremo il modo di farlo e l'informazione che deve restituire l'output è sia il livello che anche qua ovviamente non è che si può fare alla cieca nel senso che se lo faccio a peso ho bisogno di sapere sacco vuoto e sacco pieno per capire qual è il livello e poi costruire un'interfaccia adeguata il forte di tutto questo sarà l'interfaccia perché è dove io gioco facile oppure si può fare a distanza quindi devo sapere quando è vuoto e quando è pieno anche in quel caso e l'altra informazione che vi piace è un allarme un allarme nel caso sia pieno ma a quel punto possiamo scegliere quando quando ricevere l'allarme possiamo scegliere ricevere l'allarme quando è all'80% un allarme a 50% un allarme all'80% possiamo scegliere perché una volta che abbiamo i dati perché l'informazione è tutto nella domotica una volta che abbiamo i dati possiamo scegliere come gestirli questi i primi due ed è solo l'inizio Luci e Biksuka il Biksuka come vedete è già entriamo già nel vivo e diventa già bello complicatino perché ci sono due sensori da costruire due sensori da costruire un hardware da costruire e quindi già sono un po' fuori dalla mia comfort zone perché ripeto molti mi scrivete sempre ma come non capisci questa roba sei programmatore io sono programmatore mi occupo del software l'hardware lo costruisce con qualcun altro mi dice come interfaccia mell'altro e poi io te lo faccio andare anche sulla luna ma non costruisco il modulo lem io lo mando sulla luna questa è la differenza ora facciamo così veniamo in qua per comodità siamo partiti da là veniamo in qua anzi facciamo un passo indietro andiamo fuori il campanello sto benedetto campanello allora non è detto che tutto sarà da costruire qualcosa potrebbe anche essere già fatto però di sicuro il campanello merita un utilizzo migliore perché adesso c'è fuori un campanello di quelli senza fili qui c'è il suo modulino abbiamo anche la musica personalizzata che urla però tutte le volte quello a fare lì me lo devo prendere e portare in casa sono in casa devo portarlo qua il campanello scriviamo campanello poi come cosa nell'idealità cosa dovrebbe fare lo cerchiamo di capire perché soluzioni cotte e mangiate sul campanello ce ne sono un'infinità dobbiamo solo scegliere la più sensata per cui per ora qua scrivo solo campanello allora fermiamoci un attimo in tre mi avete fatto la stessa domanda se ho intenzione di mettere tutto questo su un server o un assistant dedicato al laboratorio no tutto questo sta su un solo server che è quello di casa per il semplice motivo che non ha senso avere due installazioni nello stesso posto fisico in realtà spesso non ha senso neanche avere due installazioni in due posti diversi però questo non è non è facilmente obviabile userò un server solo perché non voglio dovermi connettere a uno piuttosto che all'altro sono in casa sono in laboratorio è tutto qua cioè lo spazio è grande ma comunque è tutto nello stesso luogo quindi poi soprattutto casa non ha praticamente niente di automatizzato se non poca roba e ne avrà poca più che altro che non ci vivo non so se per cazzo sono 20 ore al giorno qua di là non ci sto mai per cui non ha nessun senso per me fare fare questa differenza tutto un unico server tutto gestito in un unico posto così almeno anche il ripetitore ZigBee è uno solo i protocolli sono gli stessi e non è detto non ci sia qualcosa che va regolato tra le due per esempio tutti le automazioni e i protocolli in notturna che devono fare vari lavori mentre stanno lavorando sono di là non voglio che sia gestito in notturno voglio che sia gestito in funzione di una casualità sono in ferie ma mi stampa tutta l'automotazione dopo il primo ciclo cioè mettiamo non ha senso che venga agitato il Big Suka perché sono in ferie e dopo la prima volta io non l'ho più usato basta segnare a dire a un assistant che sono via non sono presente in casa e quindi non fa nessuna automazione quindi il server sarà uno solo faccio una pausa bevo qualcosa e poi riprendiamo intanto voi continuate a suggerire le roba se vi viene in mente allora continuiamo con l'elenco l'ho scritto tutto così non mi vedete scriverlo man mano eravamo arrivati al campanello da capire da decidere le esigenze sono che si senta ovunque si veda ovunque magari anche quando sono fuori anche se quando sono fuori non è un'opzione perché tanto non potrei aprire la porta poi le parti un po' più facili compressore piccolo quello sotto il banco della guerra il compressore piccolo bisogna solo on off temporizzato esattamente come quello grande lo facciamo con uno smart soccer compressore grande on off temporizzato e questo qua è già stato fatto in realtà adesso lo cancelliamo e poi condensa svuotamento della condensa sempre su base giornaliera settimanale quindi elettrovalvola e shelly che butta direttamente in doccia così anche di quello uno non se ne deve occupare proseguiamo con un'altra parte bella bella tosta come vi ho detto per l'impianto all'aspirazione non ho assolutamente bisogno di gestire l'accensione dell'aspiratore in automatico in funzione dell'accensione delle macchine perché c'è già lo fa già il master del senefranologico però quelle saracinesche lì mi hanno belle che rotto le palle aprirle chiuderle a mano quindi vanno domotizzate in realtà più che domotizzate vanno prima ancora automatizzate perché non non hanno niente di automatico e questo si può fare in vari modi si può fare in maniera elettrica si può fare in maniera pneumatica e soprattutto si può o automatizzare quelle saracinesche lì oppure costruire le altre questo punto è bello complicato perché ci sono milioni di progetti in giro ma milioni attuatori dinamici motorini della chiusura delle auto da applicare a quelle tantissima roba già progettata in 3D però siccome è un punto che mi interessa molto non mi interessa tanto il fatto di averlo quanto il fatto di farlo ho in realtà in mente una strada un po' più lunga come al solito cioè ricreare con forma completamente diversa e che siano soprattutto più funzionali e intelligenti questi tipi di gate qua quindi è una roba che è a cavallo tra la progettazione del 3D e solo in ultimo ha la parte di domotica attuazione con ovviamente poi anche un riferimento visivo in loco sulla sulla saracinesca soprattutto per fare in modo che unitamente alla parte di prima del big suca che si deve agitare da solo in automatico si possa fare anche con un protocollo e non con un'automazione un ripulisti dell'impianto perché se io chiudo tutte le saracinesche e chiudo l'impianto e accendo il big suca vado a pulire quello che è l'impianto dentro e pulisco anche un po' il filtro per via dell'effetto pressione quindi c'è uno stato in cui tutte le saracinesche sono chiuse che è lo stato di default e poi accesa la macchina quella si apre e si deve aprire con un certo delay time in funzione anche del big suca quella lì è una parte un po' grossa è un po' tosta poi c'è un componente che mi interessa fare ma non è proprio fondamentale perché di fatto non serve a cazzo però mi interessa da fare che è rifare totalmente quello il volt il tutto ciò che riguarda le batterie che adesso un po' è anche andato a scatafascia era fatto con degli scarti ma soprattutto lascia le batterie sempre cariche nella mia volontà tomatizzare quello vuol dire gestire il carico e scarico con uno shell e gli stati purtroppo quelle batterie lì in quel caso non abbiamo API che ci indicano quando una batteria è carica e quando no però in base al consumo possiamo capire quando sta caricando e quando no quindi anche quello è tutto tutto da rifare non sarà un gran lavoro quello perché è più che altro facile viene fatto attraverso degli shell più l'integrazione di altri pezzi ultima parte che mi viene in mente su hardware che è piuttosto stupida perché di fatto è già fatta basta aggiungere un pezzo è il gate questo qua è una parte che non ha praticamente senso collegare alla domotica perché di fatto c'è un bottone che si preve e si accende però fatto a 30 facciamo 31 si tratta di aggiungere uno shell e due mezzi farlo alzare abbassare e gestire il fine in corsa quindi quello lì lo facciamo e non è non è niente di che ovviamente tutto questo porta dietro a metà durante alla fine un po' sì e un po' no perché non possono essere fatte separate le due cose una grossa grossa parte che è la parte più corta dell'elenco ma più lunga da fare che è tutta la parte del wall panel il wall panel è il pannello praticamente dove si mostra tutto lo stato dei sensori dove è possibile attisare e disattivare vedere tutte le statistiche le informazioni e quando è stato attivato o non attivato un'automazione un po' come quello che c'è di là sull'ipar per la sala della domotica che è usato per la sala dell'afficcanza che però quello è riservato alla stampa 3D ma che riguardi tutto il laboratorio e quello è un progetto grosso un progetto grosso di interfaccia che dovrà seguire la linea stilistica dell'interfaccia che ho fatto per le stampanti 3D perché l'impronta che voglio dare al laboratorio è quello ed è la parte grossa perché c'è da capire anche su che supporto metterlo c'è da capire come farne l'interazione e soprattutto non può essere fatta tutta la fine perché alcune cose val la pena farle man mano di volta in volta poi il riordine generale viene fatto tutto assieme però le singole schede dei singoli pezzi conviene assemblarle man mano che si va avanti a fare i singoli pezzi ultimo ma non ultimo cioè ultimo ma ultimo cioè nel senso proprio da fare alla fine di tutto è l'assistente vocale un assistente vocale custom ho già guardato in realtà ho già iniziato a lavorarci un assistente vocale custom che non sia Alexa che non sia Google che non sia niente di tutto ciò ma che sia un assistente vocale proprietario con un nome specifico che decideremo perché se in realtà io un'idea già ce l'avevo ve l'ho detto ma soprattutto che riporti un'interfaccia hardware a questo punto lo chiarisco quando ci arriviamo però voglio un assistente vocale che abbia un'interfaccia hardware perché si deve vedere questo è il piano ragazzi questo è il tutto di quello che c'è da fare o almeno quello che serve ora allo stato attuale a chi viene in mente alto libero di suggerire quello che vuole che lo integriamo lo spostiamo altri elementi per il momento da domotizzare in realtà non ci sono ci possono essere altri modi di domotizzare questi elementi ma gli elementi che ci sono sono questi sembra poca roba perché vi avevo detto è tanta roba è tutto però provate a pensare che genere di lavoro enorme è al di là delle singole e delle stronzate ora non so se oggi riesco già a mettermi a fare qualcosa qualche componentino ce l'ho perché qualcosa mi ero già premunito a farlo magari possiamo già fare le luci della zona principale dato che ho tutti gli elementi delle luci della zona principale e forse possiamo fare anche già il gate dato che ho questi altri pezzi in realtà non ne ho quindi prima di tutto devo fare un bel elenco nella spesa poi nei prossimi giorni magari non continuato alternato anche da altri lavori più che altro che sennò poi mi rompo a fare una cosa sola affrontiamo pezzo per pezzo e penso che il primo grosso pezzo al di là di quello che magari riesco a fare oggi possiamo andare a cercare di mettere assieme io adesso vedo cosa posso fare oggi così magari iniziamo a dare anche un senso all'automazione e vi faccio vedere un po' home assist ma direi che secondo me il primo grosso pezzo che si può fare di cui ho più incognita ma è quello che mi interessa fare anche perché devo già pulirlo quindi tanto vale iniziare è il Biksuka le tre parti del Biksuka sarebbero sono indubbiamente le parti più interessanti da mettere assieme perché quelle che comprendono più incognite per me perché nessuna di queste cose qua forse al di là dell'agitatore sono in grado di farla poi tutte le altre le vediamo assieme man mano ve lo ripeto ragazzi progetto lungo o meglio a lungo raggio non vuol dire che sarà solo questo sarà indubbiamente interrotto da altri mille lavori e altri progetti mi sembra bello vario ripeto sono aperto a suggerimenti ora vedo di capire perché alle tre e mezza ho un appuntamento vedo di capire cosa riesco a mettere assieme oggi sicuramente riesco a mettere assieme il compressore piccolo cioè tiro fuori aggiungo una scheda e faccio il e faccio l'automazione così la smette di rompermi le balle in casa la sera ma soprattutto il vantaggio è che almeno non me lo trovo scarico io molto spesso lo spengo e me lo trovo scarico la la mattina quello riesco a metterlo assieme sicuro e tutto il resto c'è da capire l'hardware di volta in volta vediamo che ne sarà magari poi tutto si conclude non nulla di fatto allora ho capito cosa posso fare e cosa voglio iniziare a fare anche perché la parte di software è tanta quindi vale la pena organizzare le cose bene ma prima qualche suggerimento uno di voi mi ha detto far scuotere va di nuovo mi è sparso anche perché ve lo dite tutte assieme e voi state rispondendo tutte assieme vabbè Ale mi dice la misurazione dello stato di filtro sulla pressione differenziale ovviamente avremo un dato solo quando è acceso perché finché è spento ci restituisce zero esattamente come restituisce l'altro uno di voi invece mi suggerisce lo scuotimento del filtro del libisuca non solo su fase oraria ma lui mi dice se è stato acceso nelle 24 ore precedenti sì è una raffinatezza possiamo vederle tutte dopo quando andremo nel dettaglio ogni singolo elemento il problema è che per fare così ho bisogno di un sensore in più un sensore di carico sul Bixuca io ti ho risposto privatamente che va aggiunto un sensore perché sarà una idea quando è stato acceso o no però in realtà poi pensandoci e questo è proprio il concetto di domotica dove un'entità che serva a una cosa può anche essere di servizio a un'altra per esempio nel Master Slave noi dovremo sicuramente mettere qualcosa che ci rilevi il carico per l'apertura e la chiusura delle saracinesche quegli stessi carichi rilevatori di carichi possono servire anche al Bixuca quindi di fatto noi non sappiamo quando il Bixuca è stato acceso o spento ma sappiamo quando una macchina è stata accesa o spenta siccome il Bixuca viene acceso di conseguenza a quel punto abbiamo quel dato e allora sì si può fare lo scuotimento del filtro su doppia casistica cioè temporale ogni tot o a quel punto numero di accensioni perché abbiamo le accensioni così almeno la rifaccio che l'ho detta di merda tu mi stai suggerendo di fare lo scuotimento del filtro su base oraria solo se il Bixuca è stato acceso io l'ho detto su base oraria perché pensavo di non avere un riferimento dell'accensione del Bixuca con l'automazione della Saracinesche avrò un riferimento di quando il Bixuca è stato acceso anche se in maniera indiretta perché l'accensione delle macchine corrisponde all'accensione del Bixuca a quel punto posso fare quello che dici tu scuotimento del filtro su base temporale se il Bixuca è stato acceso o meglio ancora a quel punto si elimina la base temporale e si mette anziché un timing si mette un'altra roba si fa al numero di accensioni anche se in realtà il senso massimo sarebbe farlo non su numero di accensioni ma su quantità di tempo acceso perché la quantità di tempo acceso corrisponde virtualmente a una quantità di secatura aspirata e quindi a una quantità di filito sporcato come vedete i ragionamenti sulla domotica vi ho detto che era tanto lavoro qualcuno mi ha detto che non sembra tanta roba che sono pochi sensori i ragionamenti sulla domotica sono vastissimi siamo partiti da un attuatore che agita il filtro a poi fare tutta la parte software perché la vera parte importante della domotica non è lo shelly che viene ficcato nella presa è l'altra è tutta la parte di software che va fatta organizzata lì si gioca la vera differenza lì un sistema può essere composto da tre sensori e può essere fatto iper complicato o iper semplice assolvere una richiesta o assolverne a 400 ed è lì che io vorrei insistere più di tanto nella realizzazione di questa domotica un po' perché è la parte che mi avete chiesto più spesso cioè come si fa a pensare una domotica sensata e un po' perché è lì che si riesce ad ottenere il sistema migliore ora io quello che da partirei partirei dalle stronzate nemmeno quelle che posso fare oggi tanto poi ogni singolo pezzettino lo vediamo nel dettaglio quando ci entriamo e non è detto che poi si torni indietro aggiunti altri sensori qua da qualche parte disperso ho la seconda presa smart in questo eccola qua in questo letamaio prese smart che odio disprezzo però vanno benissimo per il compressore perché vanno benissimo e quindi approfitto di fare la cosa più stupida che è quella del secondo compressore così poi ti faccio vedere come si fa un'automazione di nome assistant anche con l'aggiornamento così riesco a riordinare bene tutte le le automazioni che ho già avuto in questo momento però per fare questo mi devo spostare dal mio computer attacco la presa e mi ci sposto allora ho aggiunto la presa di là che tanto era solo proprio da infilare dentro non c'era nessun collegamento la ora devo mettere ordine le automazioni che ho fatto finora perché prima non si poteva impostare l'icona non si potevano impostare le categorie infatti come vedete io ho davanti a ogni automazione io ho scritto ATM automation oppure PTE PRT protocol e poi in alcune avevo scritto lab per separarle adesso ci sono le zone ci sono le etichette e quindi devo fare un po' si possono mettere le icone devo fare un po' più ordine hanno aggiunto questa parte che è perfetta proprio per il lavoro che dobbiamo andare a fare anche perché se no sarebbe stato un delirio avere ordine qua dentro riordino quelle che ho e poi e poi inizio a fare subito quella dell'aspirato del compressore mini l'importante è in questa fase avere sempre tutto straordinato cioè quando mettete Home Assistant per la prima volta se avete già sensori domotici magari collegati all'app Shelly o tutto lui vi dirà faccio il rilevamento automatico di tutti i tuoi sensori voi rispondetegli sto cazzo perché Home Assistant fa così però quello che per voi è un sensore lui in realtà rileva un sensore ed è in unità quindi tipo uno Shelly per farvi capire un semplice Shelly tipo lo Shelly della luce della camera da letto che non pensavo neanche ci fosse ancora lo Shelly della luce della camera da letto in realtà sono quanti sensori uno due tre quattro cinque se voi importate in automatico questa roba non capite più un cazzo mentre dovete per ogni cosa settarla giusta e mai come nel mio caso che avrò un wall panel informativo con i controcazzi è necessario che ogni cosa abbia il suo nome giusto la sua iconcina perché come è stato fatto l'errore che vedete qua sono i led della bambù che sono in dipendenza dello switch della bambù che non sono rilevabili proprio perché è spenti quindi il rosso non è sempre errore come mai nel mio caso per esempio come tutte queste cose qua sono state personalizzate una a una stessa cosa devo fare con tutte le cose nuove del laboratorio metto ordine nell'automazione scusate mi è creduto l'occhio riparlo l'ultima volta all'armadio io poi mentre prendevo il caffè ho inserito le ultime tre bobine quindi adesso ho dentro tutto il silicio che è necessario e tra un po' mi si sfaldano dal seccume questi sfidamenti qua sono andati direttamente a nove i buchi che vedete è il riavvio del server che crea un buco di dato cioè a nove stiamo nove a voglia se ci siamo riusciti a farlo con l'affare lì Davide mi sta sto facendo pulizia anche le sto semplificando Davide mi chiede se che non ho accennato niente per il riscaldamento e raffrescamento del laboratorio no non è che non ho accennato non posso fare niente il fraccaro è uno ed è lo stesso lato casa e lato lato laboratorio separarlo non si può o meglio si può ma vuol dire compare un'altra macchina e separare l'impianto non è una roba fatta stiamo parlando di spese di decine di migliaia di euro non stiamo parlando di bruscolini e non ha non ha alcun senso io d'inverno non ho mai avuto freddo anche perché il laboratorio continua a muovermi e soprattutto non posso fare assolutamente niente comanda l'automazione lato casa questo è un dato e non ho aria condizionata è una roba che non posso proprio se non c'è niente da domotizzare non posso domotizzare niente Alessandro invece mi suggerisce di aggiungere anche qualcosa che riguardi i consumi dato che ho gli impianti separati potrei fare qualcosa ho un contatore solo ma due impianti lato casa me ne frega veramente poco però a livello statistico se non costa tanto aggiungere il rilevamento dei consumi del laboratorio e solo del laboratorio non delle singole attrezzature non sarebbe male si può fare quello però a monte con qualcosa che rileva al inizio dell'impianto ripeto non le singole macchine che non che non mi interessa anche se in realtà no le singole macchine vorrebbe dire mettere solo scegli 1pm o un po' che costano di più e non ha senso non mi interessa il costo singolo ecco una cosa che non ho capito è se posso fare blocchi condizionali doppi in OR invece che in AND in home assistant mi spiego per chi non è avvezzo alla programmazione nel concetto di programmazione esiste il concetto di IF ELSE ok e poi il concetto di OR è AND quindi IF ELSE vuol dire se una cosa è così fai così se succede questo fai questo ok nella fattispecie prendiamo il caso delle luci se c'è l'alba cioè il sole sorge spegni le luci il sole tramonta spegni le luci IF ELSE per farla semplice il condizionale AND vuol dire che tu aggiungi una condizione cioè se il sole tramonta e c'è le palle girate accendi le luci il concetto di OR è se il sole tramonta o piove accendi le luci solo le due condizioni devono essere vere ma io vorrei un altro concetto perché ora come ora ho dovuto fare due azioni separate ho l'azione sunrise che spegne le luci ho l'azione sunset che accende le luci in realtà io vorrei fare un'azione sola di queste qua e il senso qual è dovrebbe essere se il sole è tramontato e non tramonta perché qua il trigger è il tramonto l'orario del tramonto perché è su base a rio se il sole è tramontato accendi le luci se no TL è sempre spente questa è la una riesco a farla riesco a farla forse questa rientra nella casistica delle scene le scene sono un'altra cosa rispetto all'automazione e protocolli cioè le scene si basano su un concetto del genere cattura lo stato in un'entità e a quel punto fa un'esperienza che poi per esempio guarda la tv è una scena allora fa il dimeraggio sulle luci del soggiorno se no stai guardando la tv la spegne forse questa casistica diventa una scena in cui il sole è un'entità purtroppo tutte queste cose sono cose poppetarie di home assistant come hanno deciso di dividere le cose tra automazioni e scene perché nella programmazione sarebbe molto più facile il sole anziché dirmi quando tramonta potrei avere il dato che se è tramontato o no devo vorrei proprio cercare di ridurre le automazioni perché per esempio anche sulla camera da letto è un'automazione completamente da rifare perché la porteremo al pari di quella fatta qua in soggiorno prima di subito tanto arriva l'estate cioè con un termostato su base oraria con un vero e nuovo termostato attualmente era divisa così cioè alle 11 accendeva tutti e due i climatizzatori all'una spegneva quello di destra alle 6 li spegneva entrambi tutto questo potrebbe essere ridotto in una semplice azione però quello non lo vado a toccare per il semplice motivo che metto il termostato però vorrei capire idem per quella del compressore per esempio quella del compressore grosso alle 8 di sera lo spegne alle 8 di mattina lo accende questa dovrebbe diventare una sola cioè se sono passate le 8 di sera accendi spegnilo se sono passate le 8 di mattina spegnilo dovrebbero diventare due però non riesco a capire nel blocco condizionale come viene eseguita questa cosa qua cioè vedi when sun rise sunrise ho capito però io cioè avrei bisogno di aggiungere un blocco condizionale qua non qua test if not is true no questo qua è già tardi è un end è in subordina l'end quindi è già tardi qua ci sono che non ha senso domotizzare secondo me o almeno non nel senso di domotica che tendo io sempre Davide mi dice hai anche tutti i lucernai cazzo se ne ho di lucernai allora quattro finestre di là cinque sei sette otto ho già fatto casino nove dieci undici dodici dodici finestre tutte che dotate di attuatori lineari tutte che per andare ad aprire io devo venire di qua andare di qua e non solo schiacciare ma tenere premuto anche questi pulsanti possiamo digitalizzarlo se ci avanzano soldi perché comunque sono otto e sono queste qua sono a doppia mandata quindi uno scegli 2.5 per ognuna di queste sono dodici fate voi i conti ma ad omotizzarle mi viene difficile pensare una casistica per il quale io ho bisogno di aprirle se fossero cose che apro spesso avrebbe senso domotizzarle per solo per la chiusura cioè se piove e sono aperte chiudile è una sicurezza come spegnere la luce però è una spesa che attualmente non vale la pena come vedete più si va avanti con la domotica più cose vengono in mente più c'è la possibilità di farne di ogni quelle robe lì le segno perché le segno dopo in elenco però rientrano nelle cose della serie se proprio mi escono i soldi al culo cioè nel senso comprare 12 scegli 2.5 perché le ho bisogno di 2.5 perché sono attuale lineare quindi andate e ritorno non lo reputo così necessario allora in realtà sono riuscito ad aggruppare dovrei essere riuscito ad aggruppare l'azione delle luci esterne in una sola ma è piuttosto arzigogolato come ragionamento dal punto di vista programmatico non è proprio congeniale dove prima l'azione scatenante era il tramonto e lo spegnimento delle luci e in un'altra azione era l'alba e quindi lo spegnimento delle luci adesso in realtà siccome la condizione if else può essere fatta solo nella causa scatenante quindi dopo il trigger cioè dopo l'alba dopo il tramonto ho fatto una roba del genere ma devo verificare se effettivamente funziona ho fatto così come trigger praticamente c'è sia l'alba che il tramonto quindi i trigger sono due lui esegue tutto ciò che sta dopo sia quando il sole va in sunrise sia quando il sole è in sunset che però è un momento specifico non è una condizione quindi il momento è non so come spiegarlo perché per noi è sempre un gerundio del cazzo cioè sta tramontando ha tramontato cioè non esiste ma in questo momento ha tramontato per lui invece è così ragiona così cioè siccome l'orario del tramonto è quello quando scatta quell'orario il sole ha tramontato in un blocco si spegne come una lampadina quello è il trigger tutti e due sono i trigger dell'azione poi in realtà nella casella allora fai diciamo then do ho messo il condizionale il condizionale è se il sole è sopra l'orizzonte spegni le luci e poi l'else è quindi in tutto il resto dei casi accendi le luci così dovrebbe funzionare non ne sono sicuro direi che lo scopro stasera voi intanto vedo che vi siete tutti incistati mi faccio un caffè vi siete tutti incistati molto molto pesantemente sul Biksuka perfetto iniziamo da quello lunedì lo tiriamo fuori lo usciamo dal suo spazio lo ripuliamo tutto lo portiamo all'attivazione a zero e iniziamo a ragionare anche perché dei sensori andranno anche ordinati e qualcosa andrà costruito però iniziamo a ragionarci va bene lunedì si succa perfetto allora con lo stesso principio dell'altra ho semplificato anche non l'automazione ma il protocollo dell'accensione delle luci di questo dello studio ripeto ragazzi sto facendo ordine poi passiamo di là voi intanto continuate a darmi i vostri suggerimenti la primissima cosa che faremo probabilmente già oggi se riesco sempre che non devo uscire perché non ho proprio una puntata ho quello che mi ha chiamato un puntello ma non è detto che io che io ci vada forse sono le luci che sono la cosa più facile oltre che il compressore appena lo vediamo le luci qua perché è un protocollo perché è forse un'azione tra le più complicate quelle fatte finora adesso ho aggiunto anche tutte le etichettine quindi inizio a vedere protocollo e che cosa fa protocollo e di cosa si occupa sopra climate protocollo protocollo di accesso protocollo di clima protocollo di luce perché è una delle più su questa azione qua e ve lo faccio vedere solo perché per quanto riguarda il laboratorio mi state facendo tante domande su home assistant un po' di non è che è richiesto sapere programmare però è richiesto avere almeno un po' di logica programmatica poi chi sa programmare fa anche a meno dell'interfaccia grafica a volte più o meno e ora vi faccio vedere come però potete fare anche tutto in interfaccia grafica ma la logica programmatica ci vuole per esempio le luci di questo di questo studio qua io quando io quando mando il computer in stop ok quando spengo il computer si spegne questa luce qua che si chiama mood light si chiama mood perché può cambiare colore quando entro e accendo la luce accendo il computer si accende questa e si spegne quella che mi fa riflesso se però è sera quando spengo il computer si accende si spegne quella e si accende quella se è giorno quella non si accende per esempio se adesso mando il computer in stop si spegne questa luce qua ma non si accende quella se fosse passato il tramonto si accenderebbe anche quella se io entro e accendo la luce e faccio uscire il computer dalla stop a parte che ci vuole la password si spegne quella e si accende questa ok ma tutto questo è condizionato non al computer è condizionato al computer e alla sua posizione che deve essere esattamente in questa stanza perché se io vado di là e mi porto il computer e lo accendo e lo spengo non deve far andare le luci qua se no al povero pipì viene una crisi epilettica e continuiamo a accendere le luci quindi l'ho basato tutto sul tipo di connessione siccome io di là uso il wifi e di qua invece sono collegato via capo la connessione attiva di questo computer è quella del cavo e per rilevare se è il cavo è lei mi baso semplicemente su il su il il mac address che ci ha collegato in quel momento tradotta viene una roba lunga così in pratica è tutta una serie di if else then else uno dentro l'altro tutti hanno i dati voi li potete gestire benissimo anche così che è il visual editor ma se uno volesse andare a vedere il codice nei tre puntini va semplicemente a fare edit yalm e si edita lo yalm qui non potete mettere i nomi delle entità ma dovete mettere gli id delle entità però anche questa ad essere aggruppata in un protocollo solo vado avanti a fare ordine e tra cinque minuti vediamo quella del compressore perché quella del compressore pone un alto ragionamento di raggruppamento allora Pietro mi dice che lui ha messo a massi istante in poco tempo si è ritrovato un casino e non capisce più niente allora ragazzi il consiglio che posso darvi è ragionate come ragionerebbe un programmatore che tradotto è la domanda che vi dovete fare è cosa farebbe Dio tutte le volte è così a partire dal naming il naming in programmazione è fondamentale ci sono applicazioni soprattutto quelle fatte dagli indiani dei cinesi che voi aprite il codice e leggete variabile 1 variabile 2 variabile 3 una volta mi è capitato di lavorare ad un app ma forse l'avevo anche già raccontato mi hanno chiamato per fare un rewrite del codice in agosto di fretta e furia apro il codice e c'erano tipo 180 colori nominati nell'app e tutti i colori si chiamavano colore 1 colore 2 colore 3 colore 4 va da sé che chi legge il codice non capisce più niente pena andare a vedere dov'è il colore 1 che colore è e dove è stato utilizzato per cui dovete usare un naming che sia intelligente idem vale per un assistant anche perché ripeto home assistant voi ragionate su device ma provate a ragionare su entità vi faccio vedere un esempio e poi vi parlo del naming vediamo se se li becco non overview setting device i device sono questi ok per esempio AMSA BC perché li ho così nominati per non essere legati alla stampante la bobina esterna della PS1 questi qua sono i device della P1S questo è il climatizzatore destra sinistra ok questi sono i device ma e sono no non mi dice il totale ma le entità sono molte molte di più quelle che vengono lette molte molte di più le entità anche perché le entità comprendono tutto comprendono i device i loro sensori le automazioni eccola qua ok quindi cercate un nome intelligente per la mia automazione a parte aver messo le etichette io facciamo l'esempio questa qua che si occupa di spegnere l'anello esterno della P1S a me interessa sapere su cosa va a influire ok chi è il comandante la Bamboo P1S e soprattutto che cosa va ad agire è un protocollo ed è un protocollo di tipo luci poi i dettagli se voglio sapere qualcosa di più li leggo qua senza andare a leggere il codice nella descrizione quindi aggiungete anche le descrizioni so che è una menata perché dovete andare a scrivervi il nome la descrizione però io senza andare a leggere quello che è anche perché io di solito non lo uso così così lo faccio vedere a voi io di solito ragiono così almeno così io prima ancora di andare a leggere il codice vedo subito che Bamboo P1S spegna nell'esterno ok ma la descrizione cosa mi dice che se la potenza c'è uno spazio in più no se la potenza è sotto il 25 watt per 15 minuti spegne le luci il resto ha detto non è che devo andare a leggere il codice vado a leggere subito la descrizione se voi vi abituate da subito a fare così problemi non ne avete anche quando avete un milione di device e 4 miliardi di sensori altro consiglio e poi torniamo di là perché vi faccio vedere cosa come gestisco i comprensci e cosa facciamo dopo tenetevi il più possibile ampi cioè tenetevi il più possibile in previsione del futuro in modo tale a non dover continuare a riscrivere roba e lasciate le robe dove è possibile questo è un concetto difficile da spiegare generiche ma specifiche se foste programmatori vi direi dovete sempre rispettare la regola della non ripetizione del codice cioè non dovete mai scrivere lo stesso codice due volte quindi un'azione deve essere il più possibile fluida in grado di ospitare qualsiasi input a fronte dello stesso output lo so che c'è da farsi sanguinare gli occhi ragazzi però ricordatevi che me l'avete chiesto voi di fare l'introduzione alla domotica per come la immagino io non me lo sono certo immaginato io anche perché avevo già finito a questo punto vi faccio un esempio pratico io ora ho due azioni alle 8 accende il compressore fino adesso ne avevo uno solo alle 8 di sera spegne il compressore potremmo fare come abbiamo fatto prima cioè sulle luci esterne ridurre tutto a un'azione sola però in realtà l'azione delle luci esterne riguardava solo le azioni in questo caso potremmo ridurre tutto a un'azione sola e aggiungere i due compressori però noi potremmo ragionare così di fatto accendere il compressore alle 8 di mattina e spegnere alle 8 di sera il compressore o i compressori è un po' come se fosse l'inizio o i fini lavori quindi potremmo intenderlo come il corrispettivo del 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 tasto esci di casa entra in casa della BTC cioè da lì potremmo scatenare una serie di azioni quindi forse la cosa più intelligente da fare non è prendere queste due azioni e raggrupparle sotto una sola in modo tale che alle 8 di mattina la stessa azione accende i compressori e alle 8 di sera spenga i compressori ma è far sì che queste due azioni separate siano inizio avvio laboratorio spegnimento laboratorio potremmo definirle così perché possiamo immaginare che oltre ai compressori un domani più presto che tardi vorremmo poter aggiungere qualcosa per esempio avremo il panel della domotica il panel della domotica non lo vogliamo spegnere di notte dato che sarà un 55 pollici non lo vogliamo tenerci tutta notte quindi alle 8 di sera si deve spegnere alle 8 di mattina si deve riaccendere quindi li raggruppiamo così facciamo due protocolli generici che ci possano servire per avviare e spegnere il laboratorio in questi due modi qua che magari poi collegheremo anche a un tasto fisico nel caso si andasse fuori orario un giorno o l'altro quindi prima cosa questi due protocolli adesso li assembliamo e per ora mettiamo dentro solo i due compressori ok dopo mettiamo dentro tutto il resto che ci viene in mente questo intendo dire contenetevi dinamici con le cose se no io avrei dovuto ripetere il codice di alle 8 fai questo alle 8 fai questo per tutte le volte che io voglio accendere qualcosa o spegnere alle 8 mentre il minimo comune di illuminatore multiplo è alle 8 cosa deve fare e sono tutti i dati questa è un po' la logica programmatica allora ho fatto i due protocolli che sono master switch on e master switch off avrei potuto accorparli in uno solo si dato che uno scatta alle 8 di mattina l'altro scatta alle 8 di sera ho preferito tenerli separati per pulizia per il momento avrei potuto fare anche un'altra cosa avrei potuto generare uno script farlo runnare in continuo e poi fargli chiedere se sono le 8 di sera o le 8 di mattina non ha molto senso perché non è che deve stare costantemente a chiedersi sono risorse server se continuano a chiedersi ogni due secondi sono le 8 sono le 8 sono le 8 quindi non aveva molto senso per ora nel master switch il master switch off è on l'unica cosa contenuta è l'avvio lo spegnimento del compressore grande e lo spegnimento del compressore piccolo e viceversa dall'altra parte l'accensione del compressore grande e l'accensione del compressore piccolo non è detto che questi qua non si uniscano poi un domani però per adesso teniamoli separati e l'altra cosa come vedete c'è scritto protocollo questo ha solo un protocollo protocollo è un etichetto dato da me è solo un protocollo non è un protocollo power non è un protocollo status non è un protocollo light perché è solo un protocollo perché io qua potrei inserire tutta una serie non tanto nell'off ma magari anche si quanto nell'on tutta una serie di azioni che non sono necessariamente legate allo spegnimento all'accensione o al funzionamento di qualcosa potrei fare ogni genere di cose salvare dei log qualcosa che non ha a che fare con l'hardro potrei scatenare un evento di aggiornamento di tutto quello che c'è in giro potrei sto guardando un po' mandare una notifica dire l'assistente devo far dire una cosa all'assistente vocale c'è tutta una pletola di informazioni per questo lo lascio come protocollo generico per il momento comunque iniziato abbiamo iniziato questo è ciò che c'era da improntare oggi le automazioni aggiustate e stemate questa è ancora anonima ed è spenta ok perché come sono spenta questa è la camera l'ha detto ma lasciate stare casa occupiamoci solo del laboratorio perché devo verificare che aver accorpato l'Esternalize Rise Off e Sunset On funzioni se funziona poi vado a eliminarlo ora di là è faticoso fare la domotica così spiegata proprio passo passo ragazzi lunedì ci mettiamo sul Biksuka con una difficoltà a parte l'incognita cioè ci mettiamo sul Biksuka iniziamo a pulirla a ragionarci poi andranno ordinati i pezzi perché dicevo che ci sono delle pause per il semplice motivo quindi non ho tutti i pezzi in casa delle cose che mi servono per cui facciamo anche un'altra cosa lunedì gli ragionamenti sul Biksuka va benissimo li facciamo qui abbiamo il nostro stato dell'arte adesso mi segno le due cose che mi avete suggerito che sono i consumi è la prima quella che mi avevate consigliato sono i consumi da tenere d'occhio e l'altra già non me la ricordo vado a rileggere i messaggi ho già eliminato dall'elenco on off del compressore grande e on off del compressore piccolo quelle due cose lì potrebbero già avere una loro scheda potrei già iniziare a fare le schede le schede sono l'unica cosa che non farò insieme a voi perché richiedono la grafica perché richiedono le mie dati quello che faremo assieme è io le farò man mano quello che richiedono assieme è da fare assieme è magari l'impronta generale del wall panel quando lo faremo così facciamo un ragionamento sulla logica di distribuzione delle interfacce che è più interessante però star lì a vedere me che disegno il compressore in sustainer tutto in vettoriale acceso e spento per capire le modalità non è non è certo una roba interessante ma dicevo lunedì facciamo anche un'altra cosa ragazzi forse ho un pezzo solo per il per il per il big suca ma lo vediamo puliamo il big suca lo vediamo poi montiamo subito le luci le luci ci alleviamo dai coglioni almeno queste luci qua quindi vuol dire che adesso io devo andare a prendere quella luce là che è saltata ma soprattutto che lunedì devo tirare fuori il trabattello se non è troppo tardi in realtà però sono le 5 e 20 l'appuntamento era tipo alle 3 e mezza ma non penso proprio di essere ancora in tempo ad andarci erano incontro con mickey e bruno uno di voi ma non penso sia ancora lì ad ogni modo esco vado a prendere questa luce qua così lunedì ce l'abbiamo per cambiarla che poi magari è anche solo il trasformatore anche secondo me è una luce alta stranamente è l'unica luce che poi magari è solo un caso che ha quelle macchie lì le altre sono tutte pulite quella lì ha le macchie sembra addirittura delle macchie d'acqua non lo so però anche la polvere si è nita così non lo so ragazzi questa era l'introduction alla domotica lunedì partiamo con la penetration se vengono fuori consigli interessanti ancora poi li segno e vi aggiorno dai ci vediamo domani l'introduction Grazie a tutti.